tiro a volo acqua viva siamo qui sul podio stiamo aspettando in realtà uno che sul podio ci è salito tantissime volte il campione massimo fabrizi un tiratore plurititolato e come tutti i grandi dello sport ha deciso di condividere la sua esperienza tutte le sue conoscenze con delle giovani nuove generazioni di ragazzi che si avvicinano a questo sport intraprendendo questo cammino il cammino del tiratore amici tiratori siamo al campo giulio antonio acquaviva rosetto degli abruzzi in compagnia del nostro campione massimo fabrizi ciao massimo inutile ricordare il palmarès ne ricordiamo soltanto alcune argento olimpico due ori mondiali un campione che davvero ha dedicato sin dai suoi primi anni dalla sua adolescenza una grandissima passione al tiro al volo un vanto sicuramente questo sport per il nostro paese non soltanto no massimo per quanto riguarda le armi che hanno fatto la storia di questo sport e continuano a farla ma anche per appunto il percorso di tanti tiratori per questa che è un'attività sicuramente ludica e sportiva ma dobbiamo sottolinearlo anche formativa cosa è stato per te il tiro al volo beh credo che il tiro al volo è stato la mia vita praticamente io ho iniziato da da bambino seguendo mio padre cacciatore lo invitarono a una a una gara amatoriale io ero molto piccolo avevo nove anni circa e da lì praticamente mi appassionai a questo meraviglioso sport e da lì praticamente mio padre fece molti sacrifici per permettermi di poter proseguire questa attività devo dire solamente grazie perché poi alla fine ho avuto molte soddisfazioni e gioie certo le regalate anche a molti di noi non nascondendo che praticamente come tutte tutti gli sport come anche negli ambiti lavorativi se uno vuole delle soddisfazioni deve comunque sia dare tanto a quello che tu desideri quindi praticamente i sacrifici da ragazzo e sono tantissimi ma sono stato comunque sia orgoglioso e fiero di averli fatti per per gli obiettivi che poi alla fine sono riusciti a raggiungere certo e qui andiamo a toccare un argomento davvero interessante perché molto spesso dimmi se è un impressione sbagliata vediamo il sogno di tanti genitori vedere ovviamente il come futuro di un figlio nel nostro paese il calciatore in altri paesi come ad esempio l'america tantissimi invece non solo tiratori ma anche vicini a questo sport portano sin da piccolissimi i propri figli invece sui campi da tiro perché la considerano un'attività appunto educativa ma soprattutto perché sognano anche un futuro per loro da tiratori perché dobbiamo dirlo diciamolo onestamente è comunque sia uno sport che ad alti livelli può dare delle soddisfazioni anche dal punto di vista diciamo economico può essere la soddisfazione di una vita non è paragonabile sicuramente al calcio al tennis al nuoto dove praticamente lì ci sono contratti miliardari il nostro uno sport minore ma comunque sia è sempre uno sport dove quando arrivi a certi livelli ti puoi mantenere benissimo con gli sponsor e il fatto che tante persone preferiscono che i figli vanno a fare calcio tennis nuoto e che purtroppo il nostro mondo ha visto che usiamo un'arma e praticamente ci ritengono praticamente degli assassini solamente perché usiamo delle armi il problema che molte persone non capiscono che il nostro attrezzo è un'arma ma è come se per noi è come se fosse un una racchetta da tennis è un attrezzo sportivo a tutti gli effetti e una cosa importantissima che molte persone non capiscono è che se tu prendi un ragazzo giovane di 14 15 anni e gli metti in mano un attrezzo sportivo per fare il tiro a volo questo ragazzo ha la consapevolezza di avere un'arma in mano e quindi praticamente vedi i ragazzi di 15 anni che praticamente sono molto più maturi di altri verissimo hai sottolineato davvero un aspetto fondamentale perché per gestire utilizzare innanzitutto anche per avere poi in possesso perché siamo possessori tutti di licenza di tiro sportivo per avere un'arma bisogna essere quantomeno abili arruolati come si suol dire quindi integri sia dal punto di vista fisico intellettivo e morale ma infatti quando vengono molti genitori che mi chiedono praticamente del tiro a volo la cosa più più semplice da dirgli è che comunque sia chi frequenta questo mondo non ha la pedina pedale sporca perché sennò praticamente non potrebbe non si può neanche avvicinare a un campo di tiro quindi infatti è questo il punto che volevo proprio sottolineare ricordiamoci che per andare in un campo da calcio comunque sia sicuramente è bene andarci con la massima educazione sempre e credo che molti si predispongano in questo modo comunque sia ci si può avvicinare ad altri sport in un campo da tiro sicuramente no esatto bene da qui partiamo supportati ovviamente da massimo seguendo quello che tu qui svolgi con i ragazzi e sarà proprio questo il nome di questa rubrica che è iniziata qui il cammino di un tiratore restate connessi